ANSA, Roma, 16-8, La democrazia richiede un giornalismo responsabile. È giornalismo responsabile quello che soddisfa il diritto del cittadino a sapere e conoscere, senza trascurare i diritti con esso eventualmente confliggenti e avendo cura dei soggetti deboli coinvolti ed esposti dall'informazione. Il sistema dei mezzi di informazione, dovrebbe riconoscere e rispettare una precisa gerarchia di valori. L'etica e la moralità sono per il giornalismo un dovere assoluto, perché è diritto dei cittadini non solo e non tanto l'essere informati, ma soprattutto l'essere correttamente informati. Lo afferma il presidente del Senato Pietro Grasso alla cerimonia inaugurale del Master in giornalismo dell'Università l'UNSA. Perché ciò sia possibile, sostiene Grasso, è necessario che le notizie siano trattate. Un fatto concreto va inserito in un quadro di riferimenti ampi e complessivi, con un'analisi approfondita dei protagonisti, dei presupposti e delle conseguenze.